Consolini, lo sapete, ci piacciono tanti giochi, tanti generi, tante cose, portiamo un sacco di cose nel canale Ma quando si tratta di giochi del genere, è tutto su un altro livello Esatto, mi sta già battendo il cuore dell'emozione Questo gioco è davvero fantastico ed è per questo motivo che vogliamo provare a farci una serie Perché cosa sono? Sono i miei nuovi animali, ecco cosa sono Sono tutti miei Ma non un ombrellone attaccato Sono dei bruchi che volano con l'ombrello Ma che bellini Ma che bellini, ma ti fanno male? No, guarda, sono tranquilli Ciao Guarda la faccia Li voglio Ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steffi Che se ti chiedi mamma è Time at Porsche Ovvero il gioco più bello del mondo Lo dico, lo dico già da subito È fantastico La grafica è bellissima Il gioco sembra ancora più bello E non vedo l'ora di iniziare a giocarlo Allora, spieghiamo subito che cos'è Ha un po' di meccaniche di Minecraft Perché abbiamo il crafting, abbiamo un po' le cosettine Ha un po' di meccaniche di Stardew Valley Perché abbiamo la possibilità di gestire il nostro negozio Di vendere le cose Di coltivare Di, diciamo, acudire degli animali Ci sono un po' di tutte le cose È un gioco aperto Quindi possiamo dialogare con le persone Abbiamo le relazioni con le persone Quindi credo che ci possiamo fidanzare Possiamo avere degli amici Possiamo avere forse anche una famiglia Non lo so Però abbiamo tante possibilità anche in quel senso Tante possibilità nel lavoro Eccetera, eccetera Però partiamo dalla storia del nostro personaggio Siamo arrivati in questa specie di isola Molto, molto carina A quanto pare ci viveva nostro padre Che ci ha lasciato il suo negozio Però c'è un problema Il negozio sta cadendo a pezzi Esatto, ci stiamo appena svegliati Ve lo faccio vedere Guardate come è ridotto Con un mal di schiene incredibile Per aver dormito male in questo letto Quindi diciamo che è messo davvero, davvero male Esatto Però la prima cosa da fare Prima ancora di sistemare il negozio Renderlo carino E soprattutto decidere cosa venderci dentro Perché al momento non abbiamo neanche nulla da vendere Siamo poverissimi La prima cosa da fare È andare a parlare col sindaco E diciamo procurarci il permesso Di poter vendere nel villaggio Perché per essere in regola Abbiamo bisogno di un permesso E quindi il nostro obiettivo E andare ad ottenere quello Il sindaco a quanto pare si chiama Presley Quindi ricordati questo nome Fere perché è molto importante Ed ecco il nostro negozietto da fuori Allora Anche se non è ben messo Secondo me è già carino È già tutto carino E vi facciamo vedere un po' di meccaniche di gioco Come potete vedere In basso abbiamo una barra Molto simile a quella in Minecraft Abbiamo la vita E abbiamo l'energia Quindi potete già immaginarvi un po' di cose Che si dovrà combattere Quindi la cosa più bella del gioco Si dovrà combattere Questo è l'interfaccia del nostro inventario Per me è già meravigliosa Allora quindi qua abbiamo il nostro inventario Con tutte le cose Come potete vedere Qui abbiamo addirittura La nostra skill Le nostre abilità E parla Quindi possiamo già capire un po' cosa c'è Combattimento Gator che sarebbe raccogliere Social che quindi sarebbe chiacchierare E avere diciamo a che fare con altre persone Con le persone del villaggio Craft vuol dire creare delle cose Farm ovviamente fare la propria coltivazione Eccetera eccetera E questo ruins che dovrebbe essere tipo Reliquie o comunque un qualcosa del genere Che mi fa pensare a dei dungeon O roba simile Esatto Sì dovremmo vederlo bene Quindi molto interessante Qui abbiamo il crafting Ci fa già vedere un pochettino Di cose che si potrebbero fare Che è già super fantastico Dopodiché la nostra missione Che infatti è quella di andare ad ottenere Il permesso per poter vendere Qua abbiamo le nostre relazioni E per ora c'è solo Presley Perché è l'unico con cui abbiamo parlato La mappa del villaggetto E il calendario Perché ci saranno anche degli eventi Nel villaggio A cui possiamo partecipare Compleanni, feste Eccetera eccetera Questo è uguale a Stardio Valle Che avevi il tuo calendario La tua cittadina con cui interagire E questo mi piace un sacco Guarda Fere Io mi avvicino a questo Clicco e mi raccolgo Iniziamo a raccogliere materiali Che sicuramente ci serviranno Per il nostro negozio Guarda come raccolgo tutto Allora ci prendiamo al troppo di questi Ovviamente con pietra e legna Ci creiamo i classici utensili Con cui poi possiamo iniziare A tagliare gli alberi Prendere la pietra Ad esempio da queste pietre Un po' più grosse Eccetera eccetera Quindi lì c'è del classico È un piacere rivederti Come va? Bene? Come stiamo? Come stiamo? Benissimo? Io direi benissimo Bene o non tanto bene? Perché comunque abbiamo dormito male Quindi Benissimo o no? Facciamo bene? Ma siamo felici di essere qui però Dai bene 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 Una via di mezzo Non bisogna aggerare Good good Ok Ferenichi Lascia che ti presenti La gilda dei commercianti Chi è che parla? Io Io sto parlando Stavo parlando Siamo l'organizzazione Che si occupa di tutti Gli scambi Attraverso le città Della regione In particolare qua Quelle di Porsche Ovviamente Perché siamo a Porsche Ok E siamo parecchio impegnate Durante tutto l'anno Quindi si lavora bene qui Si lavora bene Stef Ferenichi Ma ci vuole mettere alla prova Mi vuoi mettere alla prova Feren Sì 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 Perché ci sta dicendo Che adesso È il momento in cui testerà Le nostre abilità di costruttore Ok Dice che È abbastanza semplice Dobbiamo farci un asce Un piccone Va bene E portarli da lui Così ci insegnerà Va bene va bene va bene Allora dice che ci serve ovviamente Del legno e della pietra Era ovvio Quindi tranquillo amico Pris li guarda Siamo Diciamo esperti Di giochi come questo Non c'è bisogno Che ci spieghi nient'altro Facciamo il piccone E l'ascia più bella del mondo Quindi stai tranquillo Che li facciamo subito Mentre torno a casa Raccolgo un altro po' di materiali Per sicuro Feren Li visti in fondo Feren che cosa sono Sono i miei nuovi animali Ecco cosa sono Sono tutti Ma hanno un ombrellone attaccato Sono dei bruchi Che volano con l'ombrello Ma che bellini Ma che bellini Ma ti fanno male No cara Sono tranquilli Ciao Guarda la faccia Li voglio Voglio un recinto pieno di Ma guarda lì dietro Un'alpaca Un'alpaca rosa Ma è un po' strano Però aspetta 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 Lo voglio vedere Perché c'è il testone Che ha in testa Ciao Colorful lama Ciao Ma sei carinissimo No è troppo bello Voglio anche un esercito di loro Vabbè Vabbè Guarda che probabilmente Possiamo avere dei recinti Con diversi animali Lo spero Perché sarebbe fantastico Quindi lascia perdere Che forse possiamo farlo Ti diciamo Non perdiamoci troppo Nell'impazzire con gli animali Nella zona E occupiamoci di fare La nostra missione Anche perché è un momento importante Ci stanno mettendo alla prova Decideranno se appunto Non possiamo metterci due giorni Diciamo Dobbiamo essere bravi Guarda Cosa A quanto pare questa zona in vendita Ci dite il prezzo Siamo poveri Ok Abbiamo sei di pietra E dieci di legna Io spero che basti Perché non ne ho visto Altri in giro Qua salto direttamente Altro che aprire il cancelletto Guarda Vabbè Lo apro così Perfetto Allora Il nostro crafting table È questo E qui abbiamo L'ascia Che costa Mamma mia Quindi è ancora più pietra E guarda anche il piccone Ah vedi il piccone Lo possiamo iniziare a fare Quindi Iniziamo a farlo Ce lo portiamo a casa In questo modo Possiamo prendere probabilmente Anche più pietra E quindi è più facile Fare per l'ascia Quindi Tre di legna in più E sette di pietra Perfetto Allora lì c'è una fattoria gigante Guarda Che meraviglia Chissà quante cose dovremmo fare Oltretutto questo è un gioco Che è solo in alfa Esatto Appena uscito Ovviamente Consolini Se volete la serie Tanti likes Tanti sondaggini Proprio ve ne metto cinque Di sondaggi Dovete mettere sempre Sì 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 All'infinito Così capiremo Se volete la serie Proviamo a distruggere la pietra Guardalo Allora Due di energia a colpo Ok Ok E quando la distruggiamo Si formano dei frammenti di pietra E ci ha dato sei Te ne ha dato sei però Sei non è male Perfetto Allora buttiamo giù anche questa pietra È molto energetico Oh guarda Anche un minerale raro Uno di bronzo Ok ottimo Perfetto 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 Criamoci l'ascia E possiamo andare da Plesley A dirgli Ehi amico Abbiamo fatto tutto quello Che ci hai chiesto Quindi conferma Conferma E ce l'abbiamo fatta Se noi adesso ad esempio Guardiamo questa interfaccia Guardate qua Ci dice che abbiamo fatto tutto E che dobbiamo tornare da lui Quindi andiamo a parlargli E a dire che qua Questa missione era troppo semplice Per Fere Ma ha un nome Aspetta Quindi ci puoi interagire Fere posso parlare No Non posso parlare Però non è selvatico Gli altri non erano così Non erano così Vedi che ha pure il collare E allora è di qualcuno È di qualcuno Allora girati Vediamo se troviamo il padrone Che glielo rubiamo Fere ma c'è pure un gatto Che cos'è questa cosa Pinky Ciao Ciao gattino Con lui possiamo parlare Miau Miau Li posso dare da mangiare Allora Non abbiamo niente Non so se ce l'ho Non so se ce l'ho Però io ce l'ho provato No non ne abbiamo Poverino Magari se gli diamo da mangiare Diventa nostro Fere Non rubiamo Ma io voglio il maialino Dobbiamo assolutamente trovare del cibo Fere importantissimo Io te lo dico Altro che la missione che ci hanno dato Di testare Non ci frega nulla del negozio Qua voglio gli animaletti Così signore Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ci face i complimenti Per favore Eccellente qualità Ben fatto Grazie signore Te li puoi tenere Ma questo lo sapevamo No dice anche infatti Che ce li possiamo ottenere Voleva semplicemente vedere Se eravamo capaci a costruirlo Ok ci voleva mettere alla prova E mi sembra giusto Fere si sta facendo notte Però Prisly ci ha dato Un'altra missione Ci ha chiesto Di creare una fornace E ha detto Che questo sarà un po' più difficile Quindi ci dovremmo impegnare parecchio No infatti ha detto Che noi dobbiamo controllare Gli appunti che ci ha lasciato Il nostro padre Che dovrebbero essere questi Per capire come si fa Una stone fornace Però dove sta? Ah eccola 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 Perfetto Allora quindi ci sta chiedendo 10 di pietra 10 di legna E uno stone stool Che credo che possiamo craftare Nel nostro crafting table Quindi Assolutamente sì Forse non è così difficile Allora torniamo un attimino a casa Ma che dici Ci facciamo un riposino? Dai sì Sì dai Lavoriamo di giorno Che così con la luce Siamo più tranquilli E più freschi Abbiamo un sacco di energia in più Quindi ci mettiamo nel nostro bellellettino E dormiamo Giorno 3 Primo mese Primo anno Quindi possiamo rimanere qua Anche degli anni Sì e dice costantemente Che dobbiamo sistemare la casa Perché non dorme bene Lo so Bi paziente Probabilmente questa cosa Ha impatto in quante energia Noi recuperiamo Sì molto probabile È molto probabile questa cosa È ovvio che se non dorme bene Si sveglia sempre stanco Infatti appena finiamo Diciamo di farci dare i permessi Per poter lavorare In questo villaggio Poi pensiamo a sistemare Il nostro negozio Per dormire un po' meglio Allora noi quindi Dobbiamo andare qua Selezionare Sulla stone furnace Il nostro build E guarda Assomiglia questo a the forest La vediamo già qua E teoricamente Se noi premiamo sinistro Possiamo aggiungere i pezzi Nel caso in cui ne abbiamo Però Al momento Non abbiamo praticamente nulla Allora Li dobbiamo fare Li dobbiamo fare O qua se possiamo già fare Stull Eccolo 6 di 10 Con 10 10 di pietra Ok E voglio provare a buttare giù un albero Fammi provare Allora Opla Ma Per esempio Ah ok Inizio entrarlo bene Si riposa No no si riposa proprio Ci mette un sacco a dare un colpo Voglio vedere a te A dare a shotte scusa No no infatti non è facile Poverino E dai però L'hai lasciato bassissimo Quanta energia stiamo consumando Ok Adesso ci raccogliamo tutto E ci siamo fatti 6 di legna Che non è male Siamo a 13 Secondo me non basterà Quindi prendiamo un altro po' di pietra E un altro po' di legna Così dici Esatto Che figata Si era giusto E adesso la legna Bellissimo Ok adesso Quindi selezioniamo la legna E la piazziamo E l'abbiamo craftato Il nostro primo crafting Un po' più complicato Ok però a questo punto La prendiamo La prendiamo E la piazziamo dove vogliamo Dentro caso ovviamente Oppure dobbiamo andare a consegnarla Che Non lo so Perché lui dice solo No però dice falda Di crearla Allora secondo me dentro casa No io la metterei più qua Perché guarda come è fatta Guarda che bellina Che bellina Ci sta più fuori casa Dai È perché tu lo metti Smelti le cose E poi le rimetti in acqua A raffreddare Come nella realtà Ok Come si chiamava Come si chiamava Quello che faceva Model Fabro Bellissimo È un po' più importante E guarda che ci dice Ha detto che dobbiamo Prendere questa licenza Ok E portarla all'ufficio Del sindaco Capito Per registrare il nostro workshop E quindi poter iniziare Non era lui il sindaco Mi sono confuso Allora lui non è il sindaco Io pensavo fosse lui il sindaco Però aspetta Guardalo bene È una stellina qua Non è che lo sceriffo No non credo neanche quello Dai Hai letto Cosa c'entrerebbe No cosa Cosa ha detto Praticamente ha detto Che nel momento in cui Registriamo il nostro workshop Ok Stiamo regolari Ok Possiamo prendere delle commissioni Quindi evidentemente Gli abitanti ci faranno Delle commissioni E noi lavoreremo per loro Non ci credo No non ci credo Non ci credo Infatti Questa è una sorta di tutorial Però è già bellissimo Dal tutorial Io non so che dire Allora ci siamo Quindi dice di tornare Comunque da lui Dopo che ci siamo registrati Ok Quindi Guarda la licenza La teniamo in mano Con un sacchettino Un sacchettino Eccoci Benvenuto benvenuto Tu devi essere Sterenichi Io sono Gail Il sindaco della città È davvero bello Vedere che persone Così giovani come te Si interessino al commercio Penso alle cose Della nostra società Ok 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 Sì però Allora Noi abbiamo un po' di fretta Sono qui Infatti Gli stiamo dicendo Per registrare Il nostro Il nostro negozio Esatto Very well Very well Il nome Il nome Allora Allora Il negozio dei consolini Lo mettiamo sempre Andiamo così Sì Oppure Consolini shop Consolini shop Mi piace Consolini Shop Shop Così facciamo i consolini Bene Ci stanno dando dei limiti Troppo grandi Cioè ci sta quasi a malapena Solo consolini Dobbiamo Dobbiamo Fondare Consolini Consolini Consol E con la nostra licenza L'abbiamo chiamato Consolini Spazio S punto Che sarebbe di shop Vabbè fate finta Che sia Consolini shop Allora Lo sto comprando Non si sta con due Non so bene perché Però Ci siamo Registrati Perfetto 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 Allora nel tuo futuro Potrai Espadere Nel negozio Con delle Diciamo Zone Extra Quindi appunto Il terreno Che abbiamo visto Che si poteva comprare Che è una cosa molto interessante Ci ha anche detto Che comunque è importante Se partecipiamo Alli eventi della città Ma noi ovviamente Lo faremo a priori Anche se non ci avete detto In ogni caso Per questo video Ci fermiamo così Mi raccomando Lasciate tanti like Se fateci sapere nei commenti E con il sondaggio Se volete vedere una serie Su questo gioco Io spero assolutamente di sì Ovviamente questo era Solo praticamente Il tutorial Quindi l'inizio Di questo gioco Ma avremo tantissime cose Da fare Quindi pensate A tutte le cose Che potremmo fare Tra fattoria Crafting Ammazzare mostri E tutte le cose Che si possono fare In questo gioco Quindi speriamo Che vi sia piaciuto E ci fermiamo così Sperate che se ne lasciate così Se ci lasciateci un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima